Un saluto a tutti da Edoardo Ferrara di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone si espanderà dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale. Lo vedete indicato con questa A rossa. Notate le precipitazioni che rimarranno confinate sull'Europa orientale. Andiamo nel dettaglio dunque dell'Italia che vedrà una giornata sostanzialmente stabile e asciutta su gran parte dei settori. Vedete appunto con le colorazioni blu le precipitazioni al più isolate proprio sui settori prealpini orientali. Andiamo infatti a vedere anche la copertura nuvolosa che ci mostra cieli in prevalenza sereni sulla nostra penisola. Un po' di nuvolamenti giusto su Levante Ligure e l'Alta Toscana. Quindi in conclusione una bella giornata di sole su gran parte dell'Italia. Abbiamo anche indicato temperature in netto rialzo. Infatti sono attese punte di oltre 23-24 gradi sulla nord-ovest. Vedete anche i punti di 25 sulle centrali tirreniche. Qualche gado in meno lungo i versanti adiatici, ma clima decisamente più gradevole rispetto a questi giorni. Con questo è tutto. Aggiornamenti in tempo reale sull'app gratuita di Trabi Meteo.